Ma diciamo che noi non amiamo molto fare la trap Preferiamo altri generi, ci divertono di più Certo è che se si tratta di fare trap con dei giocattoli Allora il discorso cambia Abbiamo una trap machine micidiale Hi, welcome to the nursery wine farm Let's start to play Veramente da paura The cow, the kitten, the puppy, the bird The cow, the kitten, the puppy, the whore 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.